bella regà qui è ASMA VDOG TV oggi andiamo a San Giovanni da Ocus Focus per il contest can I beat it con me mio fratello Mastasicci bella regà porca madonna stiamo a stazione piramide, macello, traffico e noi quando arriviamo a San Giovanni si rivediamo bella regà bella August Focus Silvia Marco abbiamo organizzato questo contest di beatmaking qui per dare la possibilità da più beatmakers di avere accesso alla fonte primaria della loro arte due ore di tempo, due di più beatmakers, 8 round, 6.000 dischi, una giuria in questo caso oggi andiamo a più, il nostro giulimpro ogni round ci darà un vincitore che vincerà un premio di vento di open dischi e poi parteciperà alla finale insieme agli altri vincitori che al mio round a giugno e avremo pure di conosco in giuria bella, sono Cerafini, c'è Gheghiè di Geinforo siamo all'Ocus Focus, uno dei più fighi nei corsi di dischi di Roma oggi siamo alla gara di beatmaking, la prima appuntamento questo è una cazzo di bomba è una cazzo di bambina è una cazzo di bambina è una cazzo di bambina ok, allora adesso di quel numero di quattro concorrenti che avevano sitten a financial Allora, il primo è Kurt presente, insomma, Wittizio, che a passare il turno, un applauso, dai. Il secondo è Daniel Sprank, un applauso, adesso. Il terzo è Sernori, un applauso. E il quarto è che ha dentro. Ok. Resti già a scorsa di finale. Adesso ti ascoltiamo in quattro video. Secondo vari criteri, ovviamente anche personali, quindi non è quello di mia legge, cioè ci mancherebbe altro, però non diamo a domenica. Quindi io sono la legge, io oggi sono la legge. Credo per completezza di un po' tutto, per il tiro, per come suona, per lo stile. Credo che il bene sia. Accettando Litzdog è l'unico modo per produrre ragazzi quando dalla mattina è l'assiderare. Proprio per dire se lo diamo come tutte le cose. La musica poi viene, qui la viene, esce come un russo. Un po' di gente, un po' di produttori. io ho fatto da giuria e niente ci siamo divertiti in casino viste da paura ha vinto un ragazzo di Pistoia Titi Bello e niente ce ne verranno altri un al mese super situazione sì c'è un'iniziativa veramente veramente interessante mancava una cosa che mancava è che ora c'è un bella lì bella rega bella rega c'è un banco e si un aspo ogni producer ha accesso a tutti i rischi del negozio per il campionare bella 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 Grazie a tutti Grazie a tutti